Ho presentato un articolo 54 sulla situazione delle cattive frequentazioni che ci sono sotto i voltini di Fiumara, intorno ai giardini e a 10 prospicenti del centro commerciale, dove orde e gruppi di sudamericani e nigeriani sono intenti a spacciare da diversi anni. La situazione si porta avanti con violenza, anche più volte segnalata anche a mezzo stampa. La risposta dell'assessore è stata molto importante perché si è preso carico di risolvere il problema, parlando anche con il questore e con i referenti delle forze dell'ordine, cercando di dare dignità e dare una soluzione definitiva al problema, un problema che è importante perché comunque va a interferire sulla vivibilità, ma soprattutto sulla tranquillità delle persone a poter usufruire dei giardini e di poter usufruire degli spazi esterni del centro commerciale, come dovrebbe essere. All'interno di questo 54 mi sono permesso, come giusto e doveroso che sia, di dare la giusta solidarietà all'assessore Garassino che tanto bene sta operando sulla sicurezza di questa città e a continuare a portare avanti tutte queste politiche fondamentali per ridare dignità ai quartieri.